ecco amici un'altra pergola qua di casa adesso gli tocca pure lei faccio una bella potatura gli levo tutti i tralci e lascio tre occhi due tre occhi non di più adesso è così e poi vedete come sarà dopo vedrete ed ecco come adesso la pergolata potata te levato tutti i tranci ecco i tranci parecchi e adesso dopo va i poteri va legati manca di fa quello lassù in cima dove sta le foglie lì lì ciole la scala perché ok amici vi saluto al prossimo video ciao da giuseppe